Buongiorno, mi chiamo Thomas, sono qui da 8 anni e fra l'altro ti occupi del tempio. Questa è la sinagoga, come si dice? Della via. 24 si chiami? 24. Questa è la sinagoga. Non c'è bisogno che entriamo, lasciamolo così. Davvero? Vivi da 8 anni qui? Oh sì, sono qua. Ma va bene, perché vorrei dire la mia situazione, non posso dire se è strano, e le moto mi conosci tanto. Sei in qualche misura il padrone della strada. Perché no? Stai lì. Io quando sono arrivato ti ho trovato qui. Io e il mio, come si dice, siamo lì. Sì, il tuo letto. Il tuo letto. Io caccio il bagaggio. Ma toglimi una curiosità. Con gli abitanti del quartiere sei in buoni rapporti con tutti. Ah, davvero? Devo. Perché no? Come devo? E potrebbero anche dire cosa ci fa questo qui. Ma che fa qua? Che fatto qua, vorrei dire. E questo? Invece diciamo sono cordiali e questa è una bella cosa. Cordiali si confetti? Cordiali significa simpati, gentili. Ah sì, ma sono sempre gentili. Vorrei, ma non posso dire vorrei, sono sempre gentili. Senti, dove siamo? Il mondo? Dove siamo? No, no, non li lascia stare. Allora, dove siamo? Siamo? In che quartiere siamo? Siamo? A Parigi dove? In che quartiere? Dove dormire vuol dire? Qui siamo nel Marais. Ah, qua c'è Marais? Sì, qua c'è desviene, c'è gay, come si dice. E' un quartiere gay friend. Libertà, libertà. E' un quartiere molto gay friend, si dice. Sì, 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 ecco, guarda. Mi dispiace. Qua c'è una bella città. Si dice una piccola città perché è come una città, tu conosci quando sei andare, quando guarda la piccola strada, vuol dire, a pietoni. Sì. Non c'è macchina, non c'è... Non ci sono macchine. Tu sei ebreo? Sei ebreo? Sì, io so. Insomma, l'Osmo, io so. Il mio padre sei... come si dice italiano? Rabino. Rabin, sì. Rabino è stato a Tel Aviv, tuo papà. Sì, io vieni da Tel Aviv. Tu vieni da Tel Aviv. Io ho fuggato, io ho fuggato da Tel Aviv. Sei scappato da Tel Aviv. E perché sei scappato? Ma dicono che a Tel Aviv si fa una vita meravigliosa. Ma perché la situazione sei tanto, come posso dire, sei tanto strana? Quando dici questo, lo so, non posso... non posso dire non posso. Ma il tuo padre, se dice un giuifo, un ebreo, una religione, devo rispettare la prima volta il figlio. e apre la sorella. Quando era a mangiare, che vorrei il mio figlio, che vorrei questo. Ah, il papà, io ho visto questo, ho visto questo, ho visto questo. Ma... Thomas, perché tu sei sempre pulito, pulito, fatto così? E ho finito con questo. E tu dammi un'altra vetma? E lui dice, no papà, mi piace, sono pulito, sono corretto. Ah, ah, mio figlio, mio figlio, mi dice. Tu non sei... Non sono qua. Ma io conosci, che vorrei dire. Che vuoi dire? Hai capito? Cosa è che non accetta? E mi dice... Tu non sono... Che cosa vorrei dire? Beh, io ho capito che vorrei dire. Io ho capito. Ti piace... Ti piace qua, papà? E dice. No, tu ti piace qua, vorrei dire. Perché tu mi domande questo? Io sono tuo padre. D'accordo. Che vorrei... Che vorrei... Non sapere... Come si dice? Che vuoi dire? Che vuoi dire? Tu sei... E tua madre è italiana? Ah, sì. No, la mia madre si è trattata per me. Ha pianto? Ah, sì, 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 sì. Ma la mia madre dice, se tu prendi il mio figlio qua, a questa casa, divorzare. Perché tu sei omosessuale. E tuo padre non lo accetta questo? No, accetto me. Anche la famiglia non lo accetto. Eh vabbè, però... Sempre mi lasciare... In questa... Non posso dire in questa... In un piccolo messaggio... Buongiorno, mio figlio. Come vai? Io... Ti aspetto... Che tu mi parli... Che tu va bene? Che non freddo? Mi dispiace... Che ce l'hai... Vestiere... Ce l'hai... Va bene... Però tu hai trovato il tuo mondo qui, Thomas. Oh, qua va bene, qua va bene. Lo so... Non so... Ma tu dove sei nato? Ma perché? E che sarai nato da qualche parte. A Tel Aviv. Ah, non posso andare a Tel Aviv. Non puoi andare a Tel Aviv. No, perché se la mia padre che abita... Abita a Tel Aviv e si... Ehm... Ehm... Come si dice? Ruban... No, non ruban. Rabbino, rabbino. Ehm... Rabbino. E gli fai fare cattiva figura. Rabbin. 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 Ma se il tuo padre è solo giifo... Non c'è problema, eh? Se tu sei lesbiano o... Non lo so... Che vorrei... Non c'è problema. Il problema è perché è rabbino. Guarda, ma... Con quel momento... Se... Se il tuo padre... Se... Se il tuo padre è rabbino... Non posso fumare... Però fumi malmente. Sei un uomo felice. Ma io vorrei dire... Ascolta... Io vorrei dire... Non posso dire... Baffancourt è il mondo. Però lo puoi anche dire. Non posso giugare... Giugare le persone. Io non... Io non sono Dio. Io rispetto... Il mondo. Non importa... Chi è... Se è lesbiano... Così... Drogare... Borraccio... Tanto... Tanto... O madero. Mi dispiace... Io rispetto... Il mondo. Sono qua... Depi... 8 anni... Io... Hai visto la mia vita. L'ho visto. Hai visto... Tante situazioni... Tanto... Però... A tuo modo sei felice qui. Ma... Tanto mi... Mi dà meglio rispetto... Come si dice. Le persone ti rispettano. Questo... Mi fa... Grandi. Ti fa sentire orgoglioso di te stesso. Davvero. Grazie Thomas. Grazie. Shalom. Parc. Rue Bourdiebourg. Parigi. Marais. Grazie. Grazie.